Allora lei ha parlato di progetti e di programmazione, se ho capito bene. Noi se andiamo a ritroso, non voglio parlare di... Abbiamo l'ultimo piano socio-economico approvato ad un'animità, forse d'eccezione di qualche sindaco, dalla Comunità del Parco, indica anche i settori di interventi. Vogliamo parlare della viabilità. Gli interventi che dovevano essere fatti nell'area della viabilità cilendana, da Agropoli a Vallo, erano sull'Aste Cicerale, Prignano, Omignano, Stilla, Sesta Mercato, Perito, Stigliano. Cose che non sono state fatte. Ma sempre dal Parco? Ma no, cioè il Parco non è che è l'ente che può... Non può occupare di viabilità, di sanità, di studi, è intervenuto anche il tema di rifiuti. E poi la classe dirigente politica, sia a livello regionale, provinciale e nazionale, dovrà portare avanti quello che è stato deliberato, cosa che non è avvenuta. Oggi non si può parlare che si finanzia un agriturismo e poi non si può raggiungerlo. Cioè queste sono cose che ricapisce anche un bambino di terza elementare. Quindi sono cose, io dico, quasi semplici da poter... Noi abbiamo una carenza infrastrutturale che viene dal passato. E non abbiamo fatto questa cosa, perché pensavamo che con l'ambiente... Poi se uno dice che non abbiamo fatto quello che dovevamo cercare di risolvere i problemi sotto l'aspetto della mobilità. Io, forse con Indemmi, quattro anni dietro, proprio in una trasmissione, dissi che mi spendevo... Lei ha fatto incontri sulla sanità, sulla viabilità, sulle mosse... No, mi spendevo anche su... Quando riguarda l'accelerazione... L'accelerazione di spesa, l'alta velocità. L'alta velocità, cosa che è stata quasi raggiunta, l'hanno messa in programma. Quindi avevo parlato con il sottosegretario del Basso De Caro. Quindi non è che poi non sono stati raggiunti degli obiettivi. Beh, il lavoro è stato fatto. Abbiamo fatto le battaglie per mantenere l'ufficio postale, la stessa comunità mondiale. Ma lei pensa che noi siamo arrivati, abbiamo occupato. Io ho portato al tavolo gli assessori a firmare un documento. È vero che non è servito a risolvere gli spinosi problemi dell'idraulico forestale e delle comunità mondiali. Però abbiamo portato a casa un pezzo che ancora... Stiamo agganciati ad una speranza. Spero che adesso il Presidente sta formalizzando la nuova ricetta per dare un'onormativa nuova agli enti mondani e agli operai idraulici forestali. Allora, Sindaco, torneremo tra poco con lei sul Parco e su altre notizie. Intanto iniziamo a dare uno sguardo anche al giornale di oggi. Abbiamo la città in metropoli, se il mattino non è in edicola, per uno sciopero. Partiamo dalla prima pagina della città-regione. Il governo ombra di De Luca, scusate, dal fieri a maffettone i consulenti che amministrano miliardi. Vedremo delle pagine interne, c'è anche il Sindaco di Agropoli in primo piano. E poi le accuse della superstite non ci dissero dei pericoli. Questo per quanto riguarda l'udienza che si è svolta ieri presso il Tribunale di Vallo della Lucania sulla morte dei sub avvenuta nella Grotta degli Occhi di Palinur. Al Tribunale di Vallo, l'udienza straordinaria del processo sulla tragedia dove il 30 giugno del 2012 morirono quattro sub la testimonianza shock di Maria Laura Moschera che non è l'unica superstite perché c'erano anche altri sub che riuscirono a scampare al pericolo. Ma Maria Laura Moschera invece è la fidanzata di uno dei giovani deceduti precisamente di Telios Panaiotis. La ragazza nella lunga udienza, durata oltre dieci ore, noi eravamo presenti, abbiamo ascoltato lo zio di Telios Panaiotis, Pietro Rastilla, ci ha detto la sua, ci ha commentato ecco quanto ribadito ieri dai testimoni. Vi proporremo l'intervista nel corso del nostro telegiornale. Naturalmente tanta emozione nelle parole dello zio di Telios Panaiotis. Intanto la ragazza ha ribadito e non ci dissero che era pericoloso. Sempre per quanto riguarda le altre notizie, IMSS, doppia sede inutili, abbattipaglia, due uffici dell'Istituto di Previdenza, accorpateli. Poi Salernitana, gabionetta via e lotito in cassa 600 mila euro, Napoli, Guain, Guida e Gli Azzurri con Villa Reud. A Capaccio, a parte al consorzio, ecco le irregolarità, eboli approvati, altri pua alloggi a quota 400. E andiamo nelle pagine interne, andiamo a vedere questi consulenti di De Luca quanti soldi potranno amministrare. Intanto in questa foto, ecco De Luca e il Bascio con il sindaco di Agropoli, Franco Alfieri. Allora, lei l'ha già commentato poc'anzi, questo risultato del sindaco di Agropoli, Franco Alfieri, era nell'aria, ecco mancava l'ufficialità, non è un assessorato, è un consigliere regionale particolare del SIPR, un importante risultato comunque, e per Agropoli e per il territorio occidentano? Io faccio i miei più sinceri auguri a Franco Alfieri, perché possa lavorare insieme ai sindaci per lo sviluppo del territorio, ma non solo, perché la delega non è che ha un valore solo simbolico sul nostro territorio, ha un ampio raggio che dovrà comprendere tutte le cinque province. Ma io devo altresì notare che non c'è stata questa condivisione, a me dà fastidio quando si parla dei sindaci in maniera spropositata, che sono legittimati. Io lo dico qua, non me ne voglia nessuno, se sposo sempre la tesi di difesa dei sindaci, lo dico ai cittadini, ma anche a voi giornalisti, e soprattutto a chi gestisce segreterie di partito. Se uno è legittimato a fare il sindaco, è legittimato a fare tutto. Lo dico senza ombra di dubbio, se uno è responsabile della sanità dei cittadini, della pubblica ingolumità e tante protezioni civili, può essere legittimato a governare e a assolvere tutti i compiti istituzionali. Perché se uno non è legittimato a svolgere un ruolo nel proprio comune, che è la prima forma di Stato, non penso che possa assolvere compiti sovraistituzionali. E la stessa cosa, dicasi, del sindaco di Agropria, un comune all'avanguardia, un comune grande, di importanza numerica, ma anche strategica per il Cilento, se è legittimato, e lo sta facendo bene, ancora è in carica tuttora, non penso perché si possano muovere delle critiche verso colui che svolge in prima fila i compiti. Intanto la città dice, Franco Alfir, l'agricoltura gestirà un programma di 1,8 miliardi di euro di risorse pubbliche. La sua delega potrebbe attivare investimenti per circa 3 miliardi. Speriamo bene. Io dico che questi 3 miliardi dovranno essere gestiti. Speriamo che arriveranno anche sul nostro territorio. Le cose sono, diciamo, attese, ma bisogna comunque prepararsi per non fare la fine che abbiamo fatto da qui nel mese scorso e che abbiamo tralasciato milioni e milioni di euro all'Europa. Intanto le primarie a Battipaglia, clima teso tra i candidati, accuse veleni dopo la riunione dei 5 sfidanti. Ciotti dice, pressioni chiarificanti. sono cose che noi spesso diciamo che dobbiamo fare queste primarie, che è una forma di democrazia, ma alla fine se il contendere viene fatto nello stesso schieramento, che invece di portare forza, aggiungere forza ad una forza già esistente sul territorio, serva solo a dividere, io penso che si fa un boomerang alla fine. Non si va da nessuna parte. Intanto per quanto riguarda il candidato di centrodestra a Salerno scende in campo Berlusconi, il Cavaliere parlerà con Mara Carfagna per sciogliere i dubbi, crescono le quotazioni di Iannone, già presidente della provincia. Per quanto riguarda le pagine interne andiamo subito sulla pagina di Agropoli Capaccio, appalti irregolari al consorzio Pessum di fida alla regione. Poi abusi sui minori, ci sono diverse iniziative nelle scuole, tra cui anche l'intervento dell'Asle. Poi ad Albanella feci di topo nel pane, ora si indaga. I carabinieri avviano verifiche sul laboratorio di produzione Roccadaspide, operaio ferito ad un occhio, ricoverato in ospedale. Incidente sul lavoro per un operaio del comune, un 52enne, ha riportato un trauma ad un occhio. È stato portato all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, dove è stato sottoposto alle cure del caso. Poi Agropoli rifiuti, debito da 3 milioni, i grillini contro il comune. Cane ucciso a fucilate, salvati i cuccioli, la volontaria, istituzioni a sorde e assenti. E arriviamo alla notizia, sub morte nella grotta, la superstite, pericoli non fummo avvertiti. A Vallo l'udienza del processo per la tragedia. Vedremo nel nostro Tg che cosa è accaduto ieri. Vallo condotta a K.O., niente acqua da domani. Ricordiamo, da venerdì sera fino a sabato mattina, non ci sarà acqua in tutto il territorio di Vallo della Lucania, perché Consac deve intervenire per mettere a posto un guasto che si è verificato. Anche il suo comune è alle prese con un'eterna problematica. Allora prima eravamo un po' isolati, poi ci siamo riusciti, adesso siamo in buona compagnia. Io lo dico qui in maniera molto tranquilla, senza accusare i attuali vertici del Consac, perché sarebbe ingiusto, ma oggi abbiamo, lancio un monitor, sindaci, stiamo parlando di disegnazioni, di poltrone, tra virgolette, lasciamo le perdere, perché è una stessa parola, la stessa parola mi irrita. Quello che io dico, che è un appello che faccio a tutti i colleghi, cerchiamo di risolvere in maniera definitiva il problema dell'acqua, non può esserci un barco, non ci può essere un sviluppo. Un po' di danamenti, si sa le prese con problemi medici, è l'estate, è l'inverno. Perché siamo la parte terminale di una condotta che parte da Caposele e arriva a Stelle, l'ultimo paese, l'ultima fermata della ferrovia. Quindi alla fine quella poca risorsa che arriva spesso arriva anche in mal modo, perché rotture. Quello che a mio avviso è mangato anche in questi anni è la strategia delle opere da farsi su questo territorio. Noi abbiamo bisogno, come il pane, di risolvere, perché l'acqua è ancora più importante del pane, di risolvere questo atavico problema. E come lo si fa? Lo si fa tenendo conto di tutte le realtà locali, di tutti i comuni. Ecco dove occorre una sinergia. Cioè, vale a dire, da Caposele fino a Stelle, chi deve fare le condutture? Noi, nel nostro piccolo a Stella, ci abbiamo provato e ci stiamo provando. Io, dall'accelerazione della spesa, ho messo come primo punto la riqualificazione e la sostituzione della rete idrica. quindi se tutti quanti avessero fatto questa scelta oggi ci troveremmo in maniera molto più spedita a risolvere il problema. Perché se lei pensa che da dati che ho più del 60-70% non vogliamo fare calcoli di acqua, si disperde. Quindi è una vera... A causa di questi guasti, continui guasti. si ci mette la grande, grave siccità che... Ecco, la CONSAC nei giorni scorsi ha inviato una nota stampa anticipando proprio quella che potrà essere la situazione di criticità che si potrebbe verificare nel corso della prossima estate. Ha piovuto poco, ci sono poche riserve. Nel mio piccolo sto facendo una specie di emergenza locale. Sto cercando di fornire i miei concittadini con un autobut comunale come speriamo che il CONSAC ci dia un aiuto nelle aree diciamo più scoscese dove c'è zone alte dove difficilmente può arrivare la pressione di far fronte nelle emergenze di correre ai ripari. Sappiamo benissimo che quest'anno si prospetterà un'annata molto difficile e quindi l'allarme che io do a chi di dovere perché non c'è agricoltura non c'è turismo se non c'è problema dell'acqua. L'appello che faccio a tutti e a De Luca in Brimis di risolvere a più presto ci sono dei progetti ma sono ancora fermi perché mancano le finanze ambientali anche su questo fatto dobbiamo ben darci una regolata ecco su questo darci una regolata delle regole dei vingoli altro che su cose su abusi o vendo a la buzia.